L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni. Aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Buonasera, eccoci qua all'appuntamento Covid. Bello queste dirette dove mi autoaggiusto l'inquadratura. Com'è Marco la situazione? Bene, bene, sei ben inquadrato. Va bene così. La situazione invece non è per nulla rosea per quanto riguarda perlomeno i risultati che volevamo vedere in discesa come numeri. Nulla di allarmante, soprattutto anche nella nostra regione non dobbiamo assolutamente fasciarci la testa, però siamo ancora lontani da quelle situazioni in cui potremmo vedere un'apertura a breve. Infatti, non peraltro si parla già di nuovo di PCM all'Orizzonte che partirà già da lunedì, il primo dell'Aera Draghi che vedrà prorogare dal 6 di marzo al 6 di aprile tutte le chiusure delle attività che si conoscono ad oggi chiuse. Stiamo parlando di teatri, di cinema, di piscine, di palestre. I ristoranti avranno le solite limitazioni, forse potranno avere qualche apertura in più una volta a settimana alla sera. Ora staremo a vedere se questo verrà accolto o meno. Nel frattempo non possiamo fare altro che dare menzione dei numeri che, ripeto, sono sempre lì, non c'è nessun tipo di miglioramento eclatante. Anzi, partiamo con la grafica della protezione civile, quella che racchiude, riassume tutti i numeri della giornata. Oggi vediamo 12.853 guariti nelle ultime 24 ore, però vediamo anche, lo vediamo subito col grafico 0-0, che abbiamo un nuovo innalzamento delle positività per quanto riguarda gli attualmente positivi in tutta Italia. Lo si vede lì in piccolino, lì sulla destra vedete che non scende più, anzi sta lentamente salendo. E questo vuol dire che oggi siamo di nuovo sopra i 396 mila attualmente positivi in tutta Italia. Un andamento che appunto non permette un rilassamento delle limitazioni, delle restrizioni, eccetera, purtroppo anche se ce ne sarebbe veramente bisogno. Guardando anche i dati di oggi, con il grafico 1 per quanto riguarda i tamponi trovati positivi, oggi sfioriamo i 20.000 tamponi trovati positivi, che non è un numero basso, assolutamente. L'unica cosa che ci consola è il grafico successivo, il numero 2. Vi fa vedere però un dato molto importante che praticamente da record, almeno il mese che è appena trascorso, 353.704 tamponi fatti, tanti, non tantissimi, anche perché, ripeto, sono la sommatoria dei molecolari più gli antigenici, quindi non c'è da veramente stappare bottiglie di champagne e tutt'altro. Sono tanti, ma non da record in senso assoluto, soprattutto per i molecolari, che sono quelli più attendibili, lo sappiamo, sono quelli più affidabili quindi come risultato, ma servono anche per tracciare le varianti che sono sempre più in voga, purtroppo, fra i virus che stanno circolando nel nostro paese, soprattutto per quanto riguarda la variante inglese, che sta diventando, è già al 65-70% a livello medio nazionale, come virus in circolazione. Andiamo a vedere il grafico 3 per quanto riguarda il rapporto fra i due valori che abbiamo detto precedentemente, siamo in salita anche oggi al 5,6%. Un altro dato che, come vedete, dall'andamento giorno per giorno, che gli steli e lancioni non si abbassa, non dà segno di cedimento, tutt'altro, e quindi siamo sempre lì. La percentuale, considerando che sono molecolari e antigenici di tutti i tamponi fatti, non scende. Andiamo a vedere il grafico numero 4, Marco. Parliamo di ricoverati in terapia intensiva, 2168. Anche lì si vede questo andamento di questo grafico in rosso, lì sulla destra, sotto il numero, che vedete si sta leggermente rialzando. Oggi, infatti, c'è una salita, l'ennesima, 11 più rispetto a ieri, e lo vediamo col grafico 5. Oggi, per l'ottavo giorno consecutivo, registriamo una risalita del numero delle terapie intensive. Se poi andiamo a vedere gli ingressi, il grafico 6, ci fa vedere che oggi sono stati registrati 178 nuovi ingressi in terapia intensiva a causa Covid. Un dato che non è da record, quello più alto degli ultimi 15 giorni lo si è registrato l'altro ieri, però comunque un dato che non scende, assolutamente. Lo vediamo insieme, anzi, la media nell'ultima settimana è più alta della precedente, quindi è oggettivamente una crescita. Andiamo a vedere i ricoverati con sintomi. Marco, con il grafico numero 7, il grafico numero 7 ci dice che, a parte il giorno di ieri, siamo nuovamente in salita anche come ricoverati in subintensiva. Oggi 40 in più, 18.257 ad oggi sono i pazienti ricoverati in Italia. Andiamo a vedere il grafico 9 per dare menzione che abbiamo, per quanto riguarda i decessi giornalieri, 308 persone che non ce l'hanno fatta a causa Covid. Ci stiamo lentamente avvicinando alla soglia psicologica, più che altro, però anche molto, molto pesante a livello proprio numerico, dei 100.000 decessi in Italia dall'inizio della pandemia. Andiamo a vedere, col grafico 11, la situazione, come si può vedere, relativa ai 7 giorni della media mobile divisi per province. Sono i nuovi casi per 100.000 abitanti, quindi la densità di nuovi casi, possiamo definirla così, provincia per provincia. Più il colore intenso, più naturalmente i nuovi casi per 100.000 abitanti sono elevati come valore medio. Infatti, si può vedere che la situazione peggiore si registra nella provincia autonoma di Bolzano, ma anche in quel di Bologna la situazione non è rosea, così come in quel di Brescia, la situazione anche lì è difficile. Noi siamo in Liguria, in un rosa abbastanza tenue, siamo fra i 10 e i 20 casi ogni 7 giorni per 100.000 abitanti. Questo è il quadro nazionale. Per quanto riguarda i dati regionali, come sempre ti chiedo di aprire la grafica numero 40. La grafica numero 40 fa appunto, riassume un riassunto dei dati di oggi e di quelli di ieri sotto, ma guardiamo quelli sottolineati, oggi 25 di febbraio, il totale aumenta anche in Liguria di 452 nuovi casi e aumenta anche il numero degli attivi. Oggi abbiamo superato la soglia psicologica dei 5.000 attivi, quindi oggi attualmente ci sono 5.075 persone con il tampone positivo in Liguria, 168 in più rispetto a ieri, un numero, anche se sono stati fatti tanti tamponi, adesso andremo a vedere quanti, un numero non da poco. I decessi sono 7, un numero assolutamente in media, anzi leggermente meno rispetto a ieri, in Liguria. I ricoverati calano fortunatamente in Liguria, almeno quello, così come quell'intrapia intensiva, rispettivamente di 9 persone, di 3 persone. I test, cioè il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sono 8.015, un numero comunque sia oggettivamente importante, come importante abbiamo visto anche il dato nazionale. Guardando il grafico 41, vediamo insieme sulla destra, con la linea blu, che riguarda gli attualmente positivi, l'abbiamo detto prima, non c'è un gran segno di discesa, anzi oggi salgono di 168 unità, quindi c'è salita, altro che discesa. Per quanto riguarda i vaccinati, grafico 30, dobbiamo prendere il valore nazionale, oggi sono 1.355.543 persone immunizzate, cioè coloro i quali hanno avuto due dosi di vaccino, quindi sufficiente per dire di essere immunizzati, almeno come anticorpi dal coronavirus. In Liguria siamo al 63,7% delle dosi disponibili somministrate, quindi poco sopra 100.000 punture fatte, 102.333 somministrazioni fatti nell'arco di questi due mesi, ormai, ovvero sia dal 27 di dicembre, quando è iniziata la campagna di vaccinazione. Andiamo a vedere il grafico 31, che fa proprio menzione di coloro i quali hanno avuto due dosi, cioè 1.355.000, e 1.161.000 quelli che hanno avuto una sola dose per ora, di quali naturalmente, stiamo parlando col grafico 32, lo vediamo, dei tre vaccini riconosciuti in Italia e in Europa, cioè Pfizer, BioNTech, AstraZeneca e Moderna. Ricordiamoci che BioNTech è la prima a essere arrivata, è quella più usata, vedete quasi 3.600.000 vaccini fatti, siamo molto indietro invece con AstraZeneca e soprattutto con Moderna. AstraZeneca sta un po' accelerando nelle ultime ore, però ricordiamoci che AstraZeneca è dedicata agli under 65, quindi sotto i 65 anni viene utilizzato AstraZeneca. Andiamo a vedere il grafico 33, per fare un confronto con i dati italiani versus il resto d'Europa, vediamo che i vaccini fatti nell'ultima ora per 1.000 abitanti sono abbastanza simili Francia-Italia. Ricordiamo che la Francia nelle ultime settimane ha avuto una notevole accelerazione nelle vaccinazioni, ricordiamoci che le prime tre settimane per la Francia sono state deletere perché praticamente non ha vaccinato, ha vaccinato pochissimo, per poi accelerare notevolmente e recuperare. Abbiamo superato anche, abbiamo superato, siamo sempre stati davanti alla Germania e anche alla Spagna come vaccini fatti, vedete nelle ultime 24 ore almeno la situazione vede l'Italia in testa. Vuol dire che, speriamo che sia, non sia un caso, che l'organizzazione è cambiata nelle ultime ore. Domande Marco? Allora, prima di salutarci, ricordiamo che, come abbiamo accennato all'inizio, abbiamo da menzionare appunto un'ipotesi di DPCM, il primo dell'era Draghi, che riguarda una prosecuzione, c'è una proroga delle scadenze che erano fissate per il 6 di marzo, quindi comprenderanno anche il periodo pasquale scadendo il 6 di aprile, quindi stop agli spostamenti tra regioni, se ci saranno delle aree arancioni o rosse, stop anche fra comuni, naturalmente c'è più volontà di, per cosa riguarda il Comitato Tecnico Scientifico, di ascoltare e di gestire le zone, non tanto a livello regionale, ma anche a livello locale, come è già iniziato a essere nelle ultimissime settimane in alcune province, comuni italiani, con delle zone rosse, con dei lockdown, con delle restrizioni forti, dove si stanno registrando dei picchi di diffusione del virus, con delle analisi che portano alla variante anche sudafricana, non solo quella inglese, e così saremo ancora col freno a mano tirato per determinate attività, oltre che per un discorso di libertà di spostamento, anche possibilità di poter riaprire determinate attività che naturalmente ci auguriamo che vengano perlomeno riconosciute loro dei bonus economici importanti per quanto riguarda appunto i ristori come noi li conosciamo, ma anche in maniera più mirata e più efficace di quelle che sono state fino ad oggi. Queste sono un po' le novità. Prima di salutarci, mi stavo dimenticando di far menzione anche dalla situazione di Chiavari, a livello di numeri aggiornati ad oggi della pandemia, oggi Chiavari ha registrato 10 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, 10 chiavaresi trovati positivi al tampone e 3 nuovi guariti, quindi sale il numero totale di chiavaresi a 77 positivi, di cui 7 ospedalizzati. Ricordiamoci che in una settimana Chiavari ha più che raddoppiato il suo numero di positivi al Covid-19, stiamo parlando di numeri naturalmente bassi, però da non sottovalutare, soprattutto per la cittadina di Chiavari che aveva visto fino a una decina di giorni fa una discesa del numero dei positivi. Detto questo Marco, se non hai domande ci salutiamo qui, l'appuntamento come sempre è rinnovato a sabato prossimo, naturalmente sempre su Entella TV.